Nell è l'avventura magica della televisione. In un paese incantato, circondato da giardini fioriti, c'era una piccola casa gialla dove la cagnolina nel trovò rifugio. Con un pelo morbido come il cotone e occhi brillanti come stelle cadenti, Nell aveva un fascino speciale, il suo amore incomparabile per le avventure televisive. Nell non era una spettatrice comune. Viveva ogni storia con un'intensità che faceva battere il suo piccolo cuore. I suoi latrati erano risate nelle commedie, e i suoi sospiri erano tensione nelle trame misteriose. Ogni trasmissione era una finestra su un universo di possibilità infinite. Una sera soleggiata, quando i raggi dorati baciavano dolcemente il tetto della sua casa, apparve una nuova attrazione in televisione. Era un cucciolo allegro e felice che sembrava invitare Nell in un mondo al di là di quello schermo luminoso. In un impeto di gioia, Nell si avvicinò allo schermo e, con una zampa curiosa, cercò di toccare il piccolo compagno che sembrava così reale. Esausta dopo innumerevoli tentativi di raggiungere l'amico al di là dello schermo, Nell si ritirò nel comfort del vecchio divano fiorato, dove si lasciò andare al sonno. Mentre dormiva, sognava. Nei suoi sogni, attraversava la barriera della realtà ed entrava nel mondo incantato della televisione. Si vedeva correre attraverso campi verdi ed esplorare castelli incantati insieme ad amici che conosceva solo per immagini. La magia di Nell non rimaneva confinata al suo cuore avventuroso, irradiava gioia. Chi la vedeva non assisteva solo a un cucciolo che guardava la televisione, ma a una piccola eroina su un divano barca, navigando sul mare dell'immaginazione. Il suo entusiasmo era così contagioso che tutti in casa erano attratti dalla sua passione per le storie che scorrevano sullo schermo. Nell divenne qualcosa di più che una stella nella sua casa, era la luce che faceva brillare ogni momento ordinario con l'eccezionale. Il suo spirito vibrante insegnò a tutti una preziosa lezione, la vita può essere un'avventura spettacolare, basta guardare il mondo con occhi pieni di meraviglia e un cuore pieno di sogni. E così, la piccola Nell, con la sua avventura magica televisiva, trasformava ogni giorno in una celebrazione della fantasia, dell'amore e della pura magia che risiede in ognuno di noi.